L'ho usato per qualche giorno, adesso lo conosco veramente bene, è il nuovo Moto Z2 Play. Quello che vedete è la scatola del Moto Z2 Play che proprio in questi giorni arriva in vendita anche in Italia. Il prezzo è di 499 euro, ufficialmente online lo trovate già intorno ai 450 euro. So che qualcuno di voi aveva un po' storto il naso all'idea che all'interno ci fosse solo uno Snapdragon 626, dico solo proprio per il parere che molti di voi hanno espresso nei primi commenti a caldo. Però vi devo dire che questo è un oggetto veramente interessante. Vediamo intanto quello che c'è dentro la scatola. La confezione dunque con il telefono e la dotazione ufficiale vede già la presenza di questa cover che è compresa nella confezione. Poi sempre nella scatola, ovviamente qui dentro c'è il piripacchio per aprire il telefono, non sto a farvelo vedere, carica batteria con il marchio Turbo Power. Questo è in pratica la carica veloce per la batteria da 3000 mAh. Un cavo per la carica ovviamente con il connettore USB Type-C e poi anche le cuffie all'interno di questo sacchettino che io non ho neanche... No, non stiamo neanche a aprire. Le cuffie, basta, non ci interessa guardarle. Allora, il telefono. Allora, ve lo faccio vedere prima nella parte posteriore, perché una delle caratteristiche fondamentali è il fatto di avere questi connettori, quindi questa parte magnetica che è quella che viene utilizzata per collegare i Moto Modes. Questo telefono Moto Z2 Play ovviamente è compatibile con i Moto Modes già pubblicati, quindi ad esempio quello che conosciamo da molto tempo, c'è quello di Hasselblad per la fotocamera, c'è il primo, il Sound Boost di JBL, c'è il Battery Pack, cioè ce ne sono diversi in circolazione, ne sono stati annunciati quattro completamente nuovi la settimana scorsa, tra cui anche un Gamepad. Ecco, diciamo che i Moto Modes possono essere un punto di forza, per altri risultano forse un punto che in realtà può essere quasi una gabbia per questi telefoni, che sono costretti ad avere la stessa forma di anno in anno, proprio per essere compatibili con i Moto Modes. Io vi dico che guardo il lato positivo e ho usato ad esempio il nuovo JBL Sound Boost 2, che è veramente molto, ma molto carino. Allora, prima cosa da guardare di questo telefono è soprattutto lo spessore 5,9 mm. Se non fosse per questa sporgenza della fotocamera, che è molto evidente, davvero lo spessore è minimale. 5,9 mm con sulla parte posteriore il connettore USB Type-C e poi abbiamo l'attacco per le cuffie da 3,5 mm. Su questo lato il pulsante zigrinato per l'accensione e poi il volume rocker, il controllo del volume con i due pulsanti separati. Sulla parte superiore del telefono c'è la slitta per le due nano SIM e anche per la micro SD. Questa è una delle caratteristiche fondamentali di questo telefono, il fatto che essenzialmente il Moto Z2 Play possa essere utilizzato con due nano SIM e una micro SD contemporaneamente. Questo secondo me è un lato molto positivo. Altro aspetto, il display. Attiviamo il sensore di impronta digitale, display AMOLED, quindi con veramente una leggibilità, adesso non so quanto riuscirò a mostrare con la webcam, ma con una leggibilità veramente da competizione. Anche l'angolo di visione è veramente molto, ma molto bello. Il software invece è un software stock, praticamente Android allo stato puro, è Android 7.1.1, le personalizzazioni sono davvero pochissime, avete una voce per il controllo dei Moto Modes, ma il vostro programma più importante secondo me sarà questo, quello di Moto, cioè quello con cui potete selezionare le Moto Actions, per cui ad esempio il fatto di controllare il telefono attraverso il sensore. Se voi togliete questa possibilità di controllare il sensore, vedete, tornano i tasti a schermo. In questo modo invece potete utilizzare completamente i 5,5 pollici. Avete anche il movimento a martello, vediamo se ce la faccio. Vedete, ho acceso essenzialmente con questo movimento la torcia, oppure la posso spegnere. Altro movimento è quello per cui shakerando il telefono, ecco ce l'ho fatta, a farlo partire, parte la fotocamera. Fotocamera tra l'altro di ottima qualità, ma lo vediamo dopo, torniamo dopo alla fotocamera. Di nuovo con il sensore dell'impronta digitale, torno, ecco devo ricordarmi sempre quali sono i movimenti da fare sul sensore. Vedete poi la possibilità di tracciare un arco sullo schermo per rimpicciolire la visualizzazione, sollevare per silenziare, il fatto di capovolgere per non disturbare, è un altro aspetto invece di quello di avvicinarsi per il moto display. Ecco, moto display è un altro aspetto molto carino di questo telefono. Quando voi praticamente, adesso vediamo quando vedrà il mio movimento, adesso ce la farò, è prima o poi, probabilmente adesso avverte il movimento. In realtà quando il telefono è fermo, ecco vedete, adesso sono passato vicino al telefono e mi ha dato alcune indicazioni fondamentali. Non ci sono notifiche in questo momento, c'è il 63% della batteria e il telefono si sta comportando secondo me in questo momento molto bene perché, scusate, sto sempre toccando i tasti sbagliati, con un tocco semplice, ce l'avevo fatta ad arrivare. Eccolo dunque al controllo anche del moto display che vedete vi dà la possibilità di avere le informazioni così proprio at a glance, come direbbero gli inglesi, cioè proprio a colpo d'occhio, mentre con lo schermo notturno avete uno schermo con toni più caldi, quindi con un filtro della luce blu per poter gestire, vedere le informazioni, scusa, per non avere il fastidio della lettura del display. Ci sarebbe anche Moto Voice, però purtroppo l'italiano non è implementato tra le lingue che sono compatibili. Speriamo che prima o poi, insomma, questo genere di funzionalità arrivi anche nella nostra lingua, purtroppo c'è un po' di penalizzazione da parte nostra per questo tipo di prodotti. Ecco, guardiamo ancora da vicino un attimo il telefono, perché abbiamo detto Android 7.1.1, una versione pulitissima, telefono tra l'altro con una velocità, vedete, comunque notevole, sensore da 12 megapixel, non avete tantissime personalizzazioni della fotocamera, io tra l'altro scatto in 16 noni, quindi a 9,1 pixel. Se volete andare nella galleria dovete fare uno swipe in questa direzione, potete controllare le modalità di utilizzo del telefono con questo bottoncino che vedete nella parte superiore e poi passare alla modalità fotocamera oppure alla modalità videocamera semplicemente con il movimento di questo pulsante. Vedete, insomma, che le personalizzazioni non sono tantissime, ma fidatevi che questo oggetto si comporta veramente molto bene. Se vogliamo vedere, chiedo a Francesco che mi aiuta di seguirmi fino qua per vedere il tempo di scatto, ad esempio, di una fotografia, vedete, tempo di scatto praticamente minimale e il risultato è quello di un'immagine comunque molto bene, questa non è una foto scattata bene, questa invece sì, vedete, anche ingrandendo fino al dettaglio, vedete, comunque si comporta molto bene questa fotocamera posteriore. Anche quella anteriore vi devo dire che ha un'ottima resa. Se volete invece vedere il dettaglio del funzionamento e della velocità, ad esempio, di questo telefono, andiamo ad esempio a vedere il corriere, come si comporta nella gestione dello scrolling del corriere. Io devo dire che l'abbinamento tra RAM e processore, questo Snapdragon 626 è veramente buono, cioè comunque il telefono si comporta bene in tutte le condizioni, vediamo ad esempio, vedete, l'uscita dal telefono, scusate, ho premuto a lungo, quindi ho spento, ecco, l'uscita dalle applicazioni che comunque è assolutamente veloce. Per quanto riguarda la dotazione, abbiamo detto, non ci sono grandi concessioni con inserimenti di funzioni particolari, cioè tutto sommato, vedete, a parte la radio FM, che è una delle caratteristiche che sottolineo di questo telefono, parliamo proprio di una versione stock Android molto gradevole. Avete Google Now in questa posizione, come siamo abituati a vedere nei telefoni stock, non c'è l'assistente di Google, c'è Now on tap, se voi premete a lungo sul tasto centrale, non c'è l'assistente di Google, perché sapete che non è disponibile nella nostra lingua. Allora, se ne può parlare a lungo, perché ho visto che molti di voi hanno espresso un parere, tutto sommato, non positivo, soprattutto partendo dal prezzo. Secondo me questo prodotto vale ogni soldo che viene richiesto, perché la batteria è infinita. Questa è una delle caratteristiche fondamentali. Nei giorni scorsi ho fatto tre ore addirittura di hotspot, quindi di personal Wi-Fi, chiamatelo di Tethering, chiamatelo un po' come volete attraverso il Wi-Fi, e dopo tre ore aveva ancora il 70% di batteria. Veramente una resistenza all'utilizzo da competizione. E nel complesso, guardate che questo è un telefono veramente molto carino. Forse non sarà molto modaiolo trendy, non sarà tra quelli che verranno considerati i super cool dell'estate, ma chi comprerà questo telefono avrà davvero un prodotto affidabile, piacevole da utilizzare, e secondo me tra l'altro anche duraturo nel tempo promosso da Mr. Gadget.